. Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi.Loredana Lecciso si lascia andare a delle confessioni molto private che hanno spiazzato tutti Ma la reazione più assurda è quella di Albano.Loredana Lecciso è una showgirl italiana celebre soprattutto per essere la compagna da oltre 20 anni del grande cantante italiano Albano La loro storia ha avuto in passato diverse problematiche e i due si sarebbero lasciati per un po' di tempo A quanto pare, però, ora le cose tra loro procedono a gonfievele complice un periodo di grande sintonia sviluppato a seguito del lockdown Non deve essere semplice per Loredana Lecciso, infatti, convivere con l'ombra della nota ex moglie di Albano Romina Power con la quale l'artista è stato sposato per 30 anni e da cui ha avuto quattro figli . Non solo, Albano e Romina costituiscono ancora dopo così tanti anni una coppia artistica estremamente in sintonia mentre viaggiano per tutto il mondo portando i loro più grandi successi musicali come Felicità o Nostalgia Canaglia . Tuttavia, la storia con Albano va avanti tra alti e bassi e vivono insieme ai loro due figli nella bellissima tenuta in campagna a Cellino San Marco in Puglia Su di loro, però, c'è l'ombra di un'altra persona che sarebbe molto vicina a Loredana ma distante da Albano Vediamo di chi si tratta.L'altra figlia di Loredana Lecciso.Non tutti sanno che oltre a Jasmine e Albano Jr. l'ha Lecciso a un'altra figlia avuta da una relazione precedente La ragazza si chiama Brigitta Cazzato ora è una giovane donna Brigitta è nata dalla storia con Stefano Cazzato con cui Loredana è convolata a notte nel 1993 Il matrimonio ha raggiunto l'apice con la nascita di Brigitta ma è finito appena tre anni dopo nel 1996 Brigitta, quindi, è dovuta entrare a piccoli passi nelle grazie dell'allora nuovo compagno di sua madre Albano Come saranno, quindi, i rapporti con il cantante pugliese? Secondo quanto dichiarato da Loredana, Brigitta avrebbe un ottimo rapporto con il suo patrigno ma anche con i suoi fratellastri Jasmine e Albano Jr. con i quali condivide spesso su social scatti felici insieme Anche se non è sua figlia, Albano si è comportato davvero papà con Brigitta, queste sono state le dolci parole dell'Alecciso nei confronti del suo compagno che, quindi, non avrebbe fatto nessuna differenza ma avrebbe amato allo stesso modo tutti i suoi figli anche quelli non biologicamente suoi Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video